Now, say my name non in senso rubata, ma rubata nel senso tutto uno scritto, tutta la partita stava tutto uno scritto rubata nel senso che non l'hai vista, cliccate qua non ci sarà nulla da cliccare, quindi guardate l'ultimo episodio del Ruttodivision Vai, 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 questo popo del Napoli Bene, questo ci rompe il culo Vabbè, alla fine, parte Ghirlini Parte Ghirlini, Pianice, Gastante Andreva, Gervinio, Palacio Un po' so, compramo Pianice No, mo' si compramo Palacio, santo ti ancora non l'hai capito Vabbè, l'abbiamo presa, l'abbiamo presa L'abbiamo portata a casa Mando gioco, Mando gioco in costa, è una partita un mezzo Vai, bro Vai, che gol E vai, che gol Mamma mia, inizia carica la settimana, eh Matteo Kovacic I turbe, i turbe, i turbe I turbe I turbe Eee, ho segnato, cosa vuoi Cazzo, ti fai segnare la lingua I turbe Cazzo, qua c'è Mamma mia, come siamo partiti Cazzo, c'è Non l'ho capita sta cosa Cazzo, cazzo Cazzo, cazzo Cazzo Manzoni Flamiglio L'idea della liberazione Bello, l'ho presa, l'ho presa Uhhh D'arrivo Bella presa Dalla Dalla Che cosa Porca troia ma l'ho presa Ma perché fischi Ma ma c'è sì iscritto E' giusto Cono di niente S'escritto di oggi proprio, eh Ma i tempi D D se non c'è il nome di a 08 e dove essere davvero mai c'è stato a stavolta messi u non vado a un uomo ma c'è pino stai tranquilli zio non è passivo di portato a parlare di tre ore di se ne fa sempre riprende ma perchè il mondo rigore rigore coglione mamma mia non lo dice coglione però ok non mi sa che buona se c'è se tu perdono da zero dai dai seconda partita di questo episodio se questo se ne va pure ah non chiudevi ma basta perchè mi sono rotto il cazzo però mi sa che questo se ne va mi sa non amo noi perchè è abbastanza brutta vai turbe vai turbe vai turbe vai turbe dai che c'è mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia ho gli benji qui hanno rischiato di ammazzarsi a vicenda però ok boom vai così che cosa ma era di turbe santo dio che cazzo è cos'è Enrique che corre così tanto mamma mia addio 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 che cazzo fa ma che vuoi fare ho vissato di spazzare sto non goloide vai e cazzo va bene guarda la turbe è l'allungata sto deficiente oddio oddio che cosa vi fatto ho cercato che non mi ha fermato sto down oh perchè se l'hai allargato non hai capito ma hai allargato te perchè mi hai cambiato il giocatore con il mio non è vero ci stavi già vuoi scommette ti faccio vedere i play dopo te lo faccio vedere è diventato rosso partita combattuta questa per i vecchi trapani che non vogliono mollare ah mamma mia ho flashato per l'arbitro quello blu che cazzo era destro ma perchè destro perchè mi ricordo destro che ha fatto il colpe da Roma però andi qua in è uscita un'altra perchè sti ancora su soffi fa il passaggio alto non serve a niente peccato che te li sbarchi otto quando lo fai si ma non serve perchè poi ci metti tre ore sopra la palla però si ma che cazzo ma perchè non entrano più ste palle bella che l'ha presa in mezzo per i guadini che ci arriva l'idea mamma mia ma che cazzo è entrata con la palla ma che ci ha battuto vai che l'hai presa vai che l'hai presa sei più veloce sei più veloce buona 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 come cazzo è entrata con la palla come si fa ehi sto come si fa GERVINIO troppo va bene non va bene ma chi è? chi è che ha incornato così? ah so siamo perso ah so siamo perso ah pochi grassi ah questo ci fa male ah pochi grassi fin tanto gusto ci provo a dire quello giusto è certo che se aggirava così non è proprio un aggiramento da squadra eh io te la passo poi cazzo i tuoi poi cazzo se la perdi poi devi non fare una cosa ha giocata la ha giocata ha giocata idiota con idiota bello complimenti ngolan vai turbe 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 guarda c'è tipo un c'è tipo un mongoloide che sta tagliando qua a mezzo mamma mia perfetto dai vai e va bene così dai così senza parole vai finisce qui allora ragazzi come potete aver notato qua si è tolta la facecam quindi sarò soltanto io a commentare questa partita e vediamo quel gol a culo che ha fatto l'avversario ovviamente avevamo registrato soltanto l'audio soltanto che il daryl si è scordato di inviarmelo e io lo sto editando e non ho più il materiale per farlo quindi comincerò a parlare soltanto io la partita è finita e com'era ovvero 3 a 2 abbiamo ottenuto una grandissima vittoria quindi mi raccomando lasciate un mi piace e commentate passate sulla pagina facebook profili instagram profili personali dai cadenas è tutto da me da solo è tutto con la voce rauca e bella ciao